Ancora, l'orecchio è formato da tre parti, l'orecchio è formato da tre parti, l'orecchio è formato da tre parti, bravissimi, adesso ci dobbiamo imparare quali sono le parti, oi? Fermi tutti? Allora, adesso ci dobbiamo imparare quali sono le tre parti, orecchio esterno, orecchio medio, orecchio interno, orecchio esterno, orecchio medio, orecchio interno, ancora, orecchio esterno, orecchio interno, scusami, ho sbagliato io, vai! Orecchio esterno, orecchio medio, orecchio interno, orecchio medio, orecchio interno, Cristian, dillo tu, vai! Ehi, devi cantare però, non puoi pensare solo a suonare, aspetta papà, per favore, orecchio esterno, lo facciamo lento! orecchio esterno orecchio medio orecchio interno ancora orecchio esterno orecchio medio orecchio orecchio interno orecchio interno orecchio interno orecchio interno non glielo fare veloce papà perché sennò studiami anche dopo e dopo stavo pensando che l'orecchio del pollo lo facciamo sotto forma di canzone Cristian te lo devi imparare a scuola o lo facciamo sotto forma di canzone o te lo impari normale come lo vuoi fare e poi mangiamo mamma mia pensi sempre a mangiare tu e dopo non facciamo tanto sei pronto? e dopo non facciamo il resto lo facciamo guardatemi tutte e due siamo la banda degli orecchi vero? sì dai mi guardate avete finito? mamma noi siamo la banda dell'orecchio va bene? sì cantiamo la canzone dell'orecchio oi allora mi ascoltate per favore allora adesso lo facciamo lentamente ok siete pronti? tan 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 ok con quest'aria di tempo siete pronti? allora guarda Cristian vai suona tan 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 vai l'orecchio è formato da tre parti l'orecchio esterno orecchio medio orecchio interno ok più lento adesso lo facciamo più lento papà dai papà sembri ubriaco papà diglielo un po' l'orecchio esterno sembri ubriaco papà? l'orecchio orecchio 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 interno se siete pronti non così lento papà diglielo Cristian non così lento papà non esagerare eh possiamo un po' più veloce? sì dai l'orecchio è formato da tre parti l'orecchio esterno l'orecchio medio l'orecchio interno Cristian però devi cantare eh è concentrato dai sei pronto? l'orecchio è formato da tre parti l'orecchio esterno l'orecchio medio l'orecchio interno bravissimi via dai Cristian non guardare fuori dalla finestra concentra l'orecchio è formato da tre parti l'orecchio esterno no l'orecchio esterno dai ricominciamo forza l'orecchio non così veloce gli hai dato il tempo velocissimo di papà concentrati diglielo ok? l'orecchio è formato da tre parti l'orecchio esterno l'orecchio medio l'orecchio interno orecchio è formato da tre parti l'orecchio esterno l'orecchio medio l'orecchio interno orecchio è formato da tre parti l'orecchio esterno l'orecchio medio l'orecchio interno veloce l'orecchio è formato da tre parti Orecchio esterno, orecchio medio, orecchio interno Noi!